Musica Hai visto se il concorso non si faceva solo le dolomiti? Tanto non si può mai sapere uno spiffo, una corrente, capì? Però come si fa? Comunque io stamattina c'avevo 39. Ah, vedo te, io tenevo 41. Ma coprirsi troppo non aiuta. Ci deve essere sempre un bilanciamento fra temperatura interna e temperatura esterna. Eh, vabbè, stanno varie scuole di pensiero sulla febbre. E comunque si stanno mettendo in fila, eh, là. Vediamo di non farci cuacciare prima di iniziare. Non ti preoccupare, tutto sotto controllo. Questo è il random check. Che cosa vuoi l'aeroporto, questo check? Un controllo casuale. A presto. A presto. Grazie a tutti. Ma che guardi? Ti è passata la febbre, eh? E' solo che adesso mi è venuto. Adesso ti è venuto il torcicollo. Ricordo ai signori concorrenti che tra 20 minuti scade il tempo per consegnare, quindi affrettatevi a completare le risposte.